buongiorno a tutti sono roberto pudu della soim studio immobiliare di cagliari oggi vi presento un nuovo immobile è una villetta indipendente una villetta caposchiera siamo a dolianova dolianova nuova lottizzazione siamo al punto all'interno della villetta in quello che è il cortile anteriore cortile anteriore caratterizzata appunto da un ampio spazio dal accesso carrabile e dal portoncino pedonale alle mie spalle la zona verde della lottizzazione caratterizzata appunto da un parco esattamente alle spalle della villetta la villetta si estende con un giardino su tre lati ed è su tre livelli quello che potete vedere finestrato da 1 2 3 4 5 finestre e la zona seminterrata il cortile il giardino di quasi 200 metri quadri corre lungo questo lato fin nella parte posteriore saliamo saliamo nel piano terra in realtà un piano rialzato dalle scale frontali l'accesso l'accesso alla villetta infatti è caratterizzato non solo dalle scale frontali che accedono direttamente dal soggiorno dalla porta d'ingresso con portoncino blindato oppure dall'accesso posteriore sempre rialzato che accedono direttamente alla cucina abitabile tutto quanto per la sicurezza appunto dell'edificio chiuso con delle gratte in ferro battuto due lunghe verande completano la parte diciamo frontale dell'immobile questa parte di veranda e poi da questa altra parte chiusa appunto da un cancelletto qui abbiamo un'altra veranda l'accesso all'immobile dal portoncino blindato sull'ampio soggiorno le certificazioni chiaramente elettriche sono conformi l'immobile è vuoto e apre con questo ampio soggiorno che è tramite un'apertura da direttamente allo spazio destinato alla cucina abitabile. Ampia illuminazione dovuta al fatto che abbiamo infissi in legno a retrocamera due ampie finestre e da quella parte l'apertura della cucina abitabile tramite porta finestra porta finestra che accede direttamente alla veranda del cortile posteriore e tramite le scale da direttamente accesso alla zona semiterrata zona semiterrata di 85 metri quadri con predisposizione per quanto riguarda l'impianto idrico elettrico e per la canna fumaria quindi per la funzione di un acqua e cammino. Appresso la zona della cucina abitabile da questa parte abbiamo un disimpegno e bagno di servizio. Bagno di servizio comunque completo che accoglie da questa parte della zona lavanderia finestra che accede sulla veranda posteriore. Usciamo dal bagno. Soggiorno comunque è climatizzato, adesso ovviamente alla climatizzazione della cucina abitabile, è climatizzato anche in ogni ambiente a piano superiore. Prendiamo la scala in mezzo dita con passamano e ferro battuto, accendiamo, parliamo superiore. La villetta a caposchiera è di tipologia quadrivano, abbiamo appena visitato al soggiorno, la cucina abitabile, il servizio e invece al primo piano abbiamo tre camere da letto, due di taglio matrimoniale e un altro bagno. Iniziamo da questa camera. Camera abbastanza ampia da poter comprenere una zona proprio per il bagno con un spaccio spettacolare sulla zona verde della notizzazione. Andiamo a visitare la seconda camera. sempre camera ampia con il medesimo affaccio, sempre sulla parte del cortile anteriore. E poi, sempre ampia anche la camera matrimoniale. Camera matrimoniale che, a differenza delle camerette, ha una corta finestra per poter appunto avere accesso ad una veranda insieme all'altro bagno del primo piano, che si affaccia sul cortile posteriore. L'ultimo, l'ultimo obiettivo a visitare è il bagno. Giù al piano terra abbiamo bagno con doccia, qua abbiamo bagno con vasca, sempre comunque un bagno completo e da questa parte porta finestra accede sempre alla veranda che si affaccia sul cortile posteriore. Per i saluti finali torniamo giù al piano terra sul soggiorno. ripercorriamo le scale ed eccoci qua. Veramente ampio soggiorno con cucina abitabile. Vi abbiamo appena presentato a Donia Nova una villetta caposchiera dipendente di tipologia quadrivano su tre livelli. al piano rialzato, soggiorno, cucina abitabile, un bagno. Primo piano tre camere da letto, bagno e al piano semi interrato, accessibile tramite scala esterna, abbiamo 85 metri quadri di semi interrato. Io vi ringrazio per questa visita. Se vi piacciono le case non proprio al centro ma a un quarto d'ora da Cagliari, questa è una soluzione sicuramente ideale per chi vuole vivere degli spazi veramente. Io sono Roberto Pundu della Soim Studio Immobiliare di Cagliari. A voi, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.